Questa sponsorship ha significato tanto per noi, per team, in particolar modo per team wholesale, perché ha rafforzato una relazione che già da qualche anno era intensa. Perché dico questo? Perché in occasione della pandemia, quando si è stato dichiarato lo stato di emergenza, team è tornata, è tornata al mix ed è tornata in vari internet exchange point d'Italia. Questo perché? Perché ha riaperto i accessi gratuiti, i peer-in gratuiti diretti con tutti gli operatori. Oggi siamo ancora presenti, anzi abbiamo rafforzato la nostra presenza al mix, concediamo peer-in gratuito a tutti gli operatori che lo richiedono. Per velocità, per volumi superiori a 500 megabit, invece abbiamo lanciato un'offerta commerciale. Questo perché riteniamo che comunque dati certi volumi è necessario che l'interconnessione garantisca determinati SLA, dia determinati servizi di assurance o servizi accessori commerciali. Quindi quando i volumi crescono vuol dire che c'è un business che deve essere tutelato da un punto di vista commerciale e conseguentemente siamo dell'idea di dover offrire dei servizi. Detto questo, siamo come dicevo presenti alla LAN pubblica con un centinaio di interconnessioni dirette e con una capacità trasmissiva di circa 200 giga. Nelle sale private invece abbiamo investito tanto e abbiamo portato un terra di capacità trasmissiva. Quindi ci siamo, ci crediamo e a maggior ragione abbiamo inteso sponsorizzare questo interessante evento, il Salotto Mix 2023, con un profilo importante, cioè di main sponsor Diamond. Quindi ci siamo e siamo ben contenti di esserci. Beh decisamente, decisamente sono di interesse perché sono temi caldi, importantissimi per il sistema paese, quello della sostenibilità e dell'inclusione e quindi conseguentemente molto importanti anche per un'azienda come Team. Da un punto di vista dell'inclusione abbiamo sentito anche gli interventi di Maria Teresa Ferrigno e l'impegno di Team in prima linea sia sul bando PNRR con tutti i bandi vinti, consentitemi, di Team e con il rollout tramite FiberCop del FTP in un piano fuori dal PNRR ci vedono importanti protagonisti di questo sviluppo del broadband everywhere, come dicono appunto al mix. Idem per quanto concerne la parte di sostenibilità Team ha degli obiettivi molto sfidanti e puntiamo entro il 2040 a emissioni zero e questo lo abbiamo anche appreso dal secondo panel della seconda giornata al quale è intervenuta Francesca Petriacci di Team. Quindi temi molto interessanti su cui il dibattito deve essere incessantemente garantito. Grazie a tutti.